Quella che state per vedere è una storia totalmente originale, introdotta appositamente in Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Questo è il nome di questo titolo. Mi raccomando, se lasciate ora un mi piace e soprattutto vi iscrivete, arriveranno vari episodi. Quindi supportate la serie al massimo ed iniziamo. Inizia ufficialmente una nuova storia, una nuova serie totalmente originale riguardo Naruto. Questa è una nuova storia, una nuova storia, una nuova storia, una nuova storia. Questa è la nuova storia, una nuova storia di un'escrita che diventa in un'escrita. Grazie a tutti Ok, iniziamo col botto ragazzi, nuovo villain cattivissimo Ah, si gioca, non vedo l'ora E si cambia scenario, capitolo zero, scontro tra i migliori Quindi ragazzi, tutto questo è ambientato in un universo completamente speciale Questa è una storia originale mai raccontata prima Totalmente nuova Vediamo che succede qua, eh Un po' di scontri Ah, qua l'ho visto dal trailer Godiamocelo Ma che spettacolo è questo scontro ragazzi E noi li conosciamo molto bene entrambi, dai Boom! Ragazzi, parlo poco per farvi godere lo scontro Ma devo dire la verità Questo filmato ha un livello altissimo Peccato che sia già finito Ma giochiamo finalmente E allora, sconfiggi Naruto Tecniche segrete Risveglio non disponibili Attenzione, ci sono anche dei dettagli bonus da fare Concludi col 60% di salute residua Ed esegui una combo da 20 colpi Ecco, queste cose ci vanno a sbloccare dei costumi Nuovi colori e così via Anzi, anche altre cose Va bene, cercheremo di fare il tutto Allora Allora, è la prima volta ragazzi che Praticamente gioco il titolo Però la struttura del gioco è praticamente Quella che già conosciamo dai precedenti giochi di Naruto Mamma mia, attenzione, ma che sta succedendo? No, l'ho rifatto? Ma quanta vita c'ha? Un bazzuto totale Vabbè, comunque il livello di difficoltà Devo dire la verità Mi sembra abbastanza semplice Almeno per ora Non me l'ha fatto selezionare all'inizio Quindi Cerchiamo di capire un po' come funziona Prova ad avvicinarmi Ma se io premessi direttamente così Guarda, ma perché scappa Naruto? Oh, ma perché si allontana così spesso? Raggiungiamolo, dai Guarda, guarda, guarda Ma che scappi di continuo, broschi? Ma no, eh No, ma quanta vita c'ha ancora? Oh, mamma mia Via da qua, via da qua Mamma mia Oh Non me l'aspettavo Devo essere sincero Non sapevo nemmeno avesse tutte queste tac Diciamo che adesso si sta gasando un botto lui, eh No, ma mi ha disattivato i colpi Come devo fare? Scusatemi Ok Oh, ho finito tutta la tecnica della sostituzione qua, eh No, bravissimo Hai capito il furbacchione? Ma adesso sei mio Questa è la tua fine E nemmeno E nemmeno Mi diceva di finire con la tecnica finale Vabbè, si sta gasando un botto lui No, ho appeso l'ultima Ma non è possibile Adesso provate ad avvicinarmi, eh Uh, hai capito Ti lancio i shuriken? Le riuscite a controbattere, diciamo Uh Mo sei mio E questa volta abbiamo concluso bene Finisci l'avversario con un'arte ninja Questo volevo fare Risultati Battaglia B Vabbè, stiamo ancora un attimo imparando E ricordando i tasti La struttura del gioco, ragazzi È proprio molto simile ai titoli precedenti Ma attenzione Maro Maronami Uh, e ora? Ragazzi Risveglio attivato E poi che facciamo? Scappiamo? Allora Vuoi ancora ostacolarmi? Eh, io in realtà Ci provo Non lo so Vediamo La palla di fuoco Che fino ad ora Non l'avevamo assolutamente fatta Io se mi continuo a spostare Nel complesso Vado bene Io non so se È il caso di avvicinarmi a lui Eh, però Uh Via da qui, via da qui Spostiamoci Benissimo Io proverei Wow I due colpi si sono scontrati di nuovo Così Uh Grandissimo Sasuke Che spettacolo Ancora Aiaiaia Allora Recuperiamo Mi devo spostare Mi sa? No Comunque questa è una bella boss fight Iniziale Devo essere sincero Continuiamo a colpire così Aiaiaiaia Ancora altro chakra Mi sposto? Non è stato nemmeno troppo necessario Dai, continua così Assolutamente Palla di fuoco L'ho colpito così? Sì La palla di fuoco è andata a segno Ottimo Mi ricarico Mi sposto un po' Perfetto Via da qua Eh, purtroppo ho subito ragazzi Ho subito Mi devo spostare Tecnica della sostituzione E si vola Palla infuocata Vai adesso Di nuovo Perfetto Purtroppo ragazzi Avvicinarsi Sarebbe veramente Troppo un rischio Ma ce li sono Ce li sono Ci sono Ci sono Colpiscilo adesso Dai dai Che sta perdendo un colpo Cioè sta subendo un botto di colpi Adesso Eh, vabbè A un certo punto Si doveva ritornare Con la carica massima Diciamo Mi sposto un po' Perché Ma che fa? Ne so tremo Mi sposto Mi sposto Mi sposto Ma quanti ce ne stanno Di sti colpi Quello originale E quello là La palla arriva Fì laggiù Prova a ricaricare No Mi spedisce via Dov'è? Palla infuocata Ma che è l'ateriosfera Questa? Pazzuto totale Oh Via Devo andare da lui Corri Fermiamolo Fermiamolo Vai fermalo Ancora 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 Sto premendo Velocissimo Ce l'ho fatta L'ho fermato Ragazzi Top E questa volta È il risultato Della battaglia E mi sblocca il trofeo Bellissimo Questo scontro iniziale Bello Bello Eh Mi devo ricordare un po' I tasti Però Ci siamo Un po' alla volta ci siamo Che spettacolo Ragazzi Sti filmati Iniziali Cioè Non più iniziali ormai Ma Che spettacolo Bellissimo E ora La luce del mondo irreale E la sua via Effimera Ah parla Boruto Quindi questo era il prologo In pratica Un mondo Dei ninja nel caos Ok Saremo pure di livello Con quel personaggio Perché l'abbiamo usato Quindi ci dà un po' Tutti i risultati Della battaglia Va bene Va bene Ci sta Ci sta la grande Quindi vedete Oh sono riuscito a fare tutto Top Grandissimo E poi vabbè Sblocchiamo anche altri colori Dei costumi Titoli Gradi Vabbè tutte cosucce Che sappiamo Dai E quindi si va Direttamente avanti Col primo Capitolo Che è quello dedicato Proprio a Boruto Ed eccolo qua Ci ritroviamo Al villaggio della foglia Non così tanto tempo fa Quindi ti racconta Cosa è successo prima Magari Ti spiega un po' Qualche giorno prima Vediamo Giorni della gioventù Capitolo 1 Quindi quello effettivamente Era un prologo Col capitolo 0 Siamo arrivati Al villaggio della foglia Missione compiuta Più velocemente Di quanto pensassi Vabbè Squadra 7 Ovviamente Io non so se voi Oltre a Naruto Avete visto anche Boruto ragazzi Però chiaramente Qua Boruto insieme a suo padre Sarà il protagonista Hai una memoria Selettiva Maestro Konomaru Per oggi abbiamo finito? Non ci sono altre missioni Vabbè Questi ragazzi Non sono filmati Io ve li parlo Così almeno Andiamo più spediti Ok Boruto sempre Preso bene Al massimo Ci sta Aspetta un attimo Va bene Va bene Vediamo che succede Se vuoi scusarmi Maestro Konomaru Sì E li raggiunge Va bene Va bene Curioso di vedere Cosa ha scatenato Poi tutta quella guerra Quel nemico Chi è Perché Tutto quanto Cos'è successo? Mi raccomando ragazzi Supportate questi video Con un mi piace Fondamentale Iscrivetevi Così voi non vi perdete I prossimi video Dovrebbe essere arrivato Il nuovo gioco Che ho ordinato Un gioco seriamente? È Eroi Ninja? Come lo sapevi? Ormai è un gioco Molto popolare Nel mondo dei ninja Ho cercato ovunque E finalmente Non ho una copia Ti piacciono molto I tuoi giochi No Stavolta farò qualcosa Per I Mawari Cosa vuoi dire? Ecco Proprio là Vediamo Che deve vincere Tipo un torneo Una roba simile? Ma quelli sono proprio I scenari di Naruto Una grande opportunità Per ottenere Una replica Della rarissima collana Indossata Al settimo kage Da giovane Ma scusa Boruto è tuo padre Te la fai data lui Viaggiamo per il mondo Di eroi ninja Chiaramente è la sorlina Di Boruto La collana di papino Una collana? Mamma Papà indossa una collana così? Non la indossa ora Ma sono sicura Che ci fosse un tempo In cui indossava La collana ricevuta Dal quinto kage Ovviamente inata Che è diventata poi La moglie di Boruto Quindi questa è una copia Di quello vecchio Non posso credere Che le aziende di videogiochi Controllino tutte quelle cose Se lo vuoi Lo prenderò per te Davvero? Sì lascia fare a me Allora mamma Posso comprare Quel nuovo gioco Per i Mawari? Sì vabbè La scusa ovviamente Ci vuole giocare lui E dice che è per lei No è per i Mawari Ecco infatti Vabbè ci sta Ci sta Vediamo Quindi questo era Un flashback Mettiamola così Allora ecco Cos'è successo Quindi immagino Che sia per i Mawari Sì ed è per questo Che devo affrontare il gioco Che vuoi dire? Stai sorridendo Comunque devo andare Ci vediamo Sarada Mitsuki Va bene E ci ritroviamo Direttamente A casa Benvenuto a casa Beh bella casetta Uh è proprio un visore Bello Allora è questo Eroi Ninja Che poi ragazzi Si sono veramente Voluti tecnologicamente Nel mondo di Naruto Eh con Con Boruto stesso Eccolo qua Col visore Il controller Il controller è palesemente Quello della Playstation Mi assicurerò di avere una connessione Sì nessun problema Dobbiamo scegliere un nome da utilizzare nel gioco Credo che userò il mio Ora dobbiamo scegliere il nostro avatar Sasuke sarebbe figo ma aspetterò l'aspetto Anzi ma userò l'aspetto di allora di mio padre Basterà premere questi tasti per selezionare il resto E ci siamo È tempo di divertirci un po' Cominciamo il gioco Vediamo Si combatterà sicuro in questo gioco Perché Altrimenti che facciamo qua Ecco qua Tutto in VR L'idea è carina Speriamo la vadano ad introdurre bene nel corso della storia Questo è il mondo virtuale di Eroi Ninja Ok Ovviamente lui ha le sembianze di suo padre Sembrano proprio come papà È un po' strano ma divertente È emozionante Vediamo vediamo Perché è strano che il protagonista quindi del gioco è Boruto Ma in persona suo padre è Naruto Questo fa capire ragazzi come Naruto sia molto più amato di suo figlio Ma questo penso non ci fossero tanti dubbi Credo che questi poi siano avatar di tanti altri giochi Ci sono degli eventi in game Anzi in realtà no Non ci sono eventi al momento Nessun nuovo evento? Allora andiamo a fare qualche missione libera Ok Questi vanno a fare la missione C'entra quel personaggio guida del gioco? Vediamo se parliamo con lei Ciao Sono Nanashi Sarò la tua guida agli eventi Non ci sono nuovi eventi al momento Oh va bene Non ne ho bisogno Puoi dirmi solo cosa dovrebbe fare un principiante? Tutti i principianti dovrebbero leggere la pagina Pagina 13 del manuale prima di giocare Ma no che dobbiamo fare con sto manuale? Eh lei risponde proprio come un bot Voglio solo conoscere le basi Tutti i principianti dovrebbero leggere Dimmelo Sai già cosa c'è a pagina 13? Vediamo se ce lo dice dai Se diventa Se va oltre l'NPC Sono solo la guida eventi Non mi occupo dei novellini Perché ti comporti così? Perché sei così insistente? Sai non si tratta solo di te Il mondo dei ninja è troppo debole ormai Perché non guardi da te prima di chiedere a qualcun altro? Andiamo Sono un pivello Aiutami Non importa se sei un principiante o no Vuoi solo che le cose siano più semplici Come vuoi Come vuoi Se insisti potrei usare un po' del mio tempo prezioso Potrei usare un po' del mio tempo prezioso E raccontarti qualcosa Controllerò io stesso Allora dimmi dove posso andare per combattere Dai su Davvero Bene Sei insistente da dare sui nervi Ti condurrò in giro Come favore speciale E va bene Tra l'altro alle spalle Tutti i personaggi di Naruto Vedo pure i tacili Va bene ci sta Sono tutti avatar E siamo In una zona dove forse ci daranno missioni secondarie E perché te ne sei andata così in fretta Da qui puoi intraprendere diverse missioni Comincia pure Quelle che ti sembrano interessanti In ogni caso sei qui per conto tuo Un momento E ora? L'ho menzionato prima Ma sono un principiante Avete battaglie per pivellini? Non c'è niente di simile Visto che sei come una guida di navigazione Questo significa che sai molto del sistema di gioco, no? Non potresti organizzare qualche battaglia facile per me? Ho incontrato molti giocatori finora Ma tu sei il primo a essere così spudorato L'inizio è cruciale Voglio davvero godermi questo gioco Sospiro Sei una seccatura Va bene Probabilmente continuerai a tormentarmi se dirò di no Va bene È il momento di darsi da fare Allora Cosa farai? Stai per cominciare? Non vedo l'ora Va bene E quindi inizia proprio una missione direttamente? Uuuuh Riguarda la selezione del personaggio Man mano che si va avanti nella storia speciale Si incontrano battaglie che si svolgono nel mondo degli eroi Quindi possiamo ad accedere a questa schermata Che permette di utilizzare qualunque personaggio Ah ma quindi è completamente a nostra totale scelta Ma io questo non me l'aspettavo che il gioco era così Quindi puoi scegliere chi vuoi Come vuoi e quando vuoi Senza alcun problema E beh io a questo punto mi vado a scegliere Proprio Naruto Nella modalità Baryon È bellissimo Lo voglio utilizzare Assolutamente Eh forse è un po' too much Però ragazzi Oh il gioco ce lo permette che ce ne frega Ok quindi questa è la primissima battaglia Occhio Il realismo è incredibile Oh ecchiappa Ma che belle combo che c'ha Rasengan fa parte della combo eh ragazzi Occhio Boom Rasengan titanico Bellissimo Ma Roma quanti danni gli fa? Ma secondo me ragazzi sto è troppo forte Cannone del circoterio spaziale? Mamma mia Ma qua devo alzare la difficoltà Perché sennò questo abusca un botto Sto povero Anche possibilità di finale con tecnica segreta? Ma ci provo? No No ragazzi Devo finirla assolutamente con la tecnica segreta Non esiste Meno male Perché ci siamo? Mi avvicino Ci siamo Boom Rasengan particellare Trivella celeste Ma ronna mi ma che fa? Nello spazio Tecnica segreta rivelata? Ma ronna mi imbazzuto totale Io ho soddisfatto entrambe le richieste del gioco Ragazzi sto Naruto è pazzesco Risultati battaglia S Vedete? Aumentiamo sempre di più Ci sta Bene Credo di aver finalmente capito come funzionano queste battaglie Ora non ti guiderò più Capito? Sì Guarderò da solo più tardi Vabbè mica era tanto difficile Boruto scusa Eh Sei divertente Mi hai già aiutato E hai anche preparato una battaglia per me Grazie Vabbè dai almeno è educato da questo punto di vista Va bene ci sta E quindi posa il videogioco Finisce qua Va bene Il gioco era molto più bello di quanto pensassi Devo dirlo a Shikadai E agli altri più tardi Boruto In realtà ha detto Nishan che sarebbe frate Fratellone Fratello Il cibo è quasi pronto Vabbè quindi si va a mangiare Lì c'è pure Direttamente Tutto il packaging Oh Ok gira la testa Svenuto? No Abbiamo bisogno di riposo Vabbè effettivamente ragazzi Succede quando si utilizzano visori e simbie Dove è papà? Ha detto che la sua gente è piena oggi Di nuovo? Eh purtroppo Oh Quando ne ho kage Che vuoi fa? Ok Completato con S Top Devo dire la verità top Eh tutto al massimo E ora? Hmm Questo è l'ufficio dell'okage Sono passati cinque mesi Non abbiamo ancora rintracciato Teguse? Ok c'è Shikamaru No stiamo ancora indagando ma Mi scuso C'era un ladro che lavorava Dal mio laboratorio Un ladro Non è solo colpa tua Non abbiamo fatto una buona sorveglianza Non riesco a credere che ancora non ce ne siamo accorti Dopo tutti quei furti Notevole Probabilmente ha usato un attrezzo ninja per scappare Era un membro dello staff di grande talento Peccato non essere riusciti a fargli capire Che ciò che stava facendo era sbagliato Se avessimo potuto usare i suoi poteri per il bene e non per il male Già Ma quindi non mi dire che il ladro È quello che abbiamo visto all'inizio Ricordi che Teguse ha rubato Di attrezzi ninja Dei progetti quando è fuggito? Eppure ieri abbiamo scoperto Che aveva rubato un altro oggetto Cosa? Storia dei sigilli Degli stati combattenti È stato rubato dalla biblioteca Cos'è? In pratica è un libro che elenca tutte le persone sigillate Durante il periodo degli stati combattenti Descrive le ragioni per cui furono sigillate E i luoghi in cui sono state sigillate Si mette male Continuate la ricerca Non è che adesso li liberano Il furto degli attrezzi ninja era un brutto affare Ma il furto di quella pergamena è ancora più grave Fortunatamente ne abbiamo una copia Possiamo usarla per indagare sulla posizione dei sigilli Katatsuke Ispezione il laboratorio con la squadra investigativa In cerca di indizi Sì signore Eh non si mette benissimo eh E si ritorna in città Il giorno seguente Va bene Sembra ancora tutto normale Tutto tranquillo Fin troppo Shigatai Inojin Vediamo un attimo eh Vi ricordo che sono i figli degli altri personaggi di Naruto Ecco qua Squadra 10 Va bene Che state facendo? Stiamo parlando di dove incontriamo Un incontro? Un incontro? Hai sentito del gioco eroe ninja? Si parlava di giocare insieme Cosa anche voi avete eroe ninja? Finalmente ieri ho capito Direi che questo ci rende un po' più esperti di te Davvero? Mi hai battuto sul tempo Se ce l'hai anche tu giochiamo insieme? Sì stavo pensando di contattarvi Allora incontriamoci davanti al banco informazioni Missioni Ricevuto Non vedo l'ora di avere la tua guida signore esperto Ci vediamo dopo vivello Vabbè quindi loro ci giocano da più tempo E ritorniamo a casa E iniziamo il gioco Sì Ok Mostrerò Shigatai e gli altri quanto sono abile Che il gioco abbia inizio Entriamo nel gioco Vediamo Eccoci qua Vi ricordo che impersoniamo Naruto con Boruto Non conosco l'aspetto di Shigatai e degli altri qui Perché infatti ognuno va diciamo a prendere l'immagine Di un personaggio storico di Naruto Vedete quelli non sono veramente Che ne so Gaara O in generale il padre di Naruto No Quelli sono Avatar Che ogni personaggio sta appunto interpretando E' colpa nostra per non avergli fatto sapere che aspetto avremmo avuto E infatti Quindi siete Shigatai e Inoshin Già Eh vedete Shigatai è somiglia Gaara No è proprio Gaara Sì cioè siamo parenti Niente male eh Quindi cosa dovresti essere Inoshin Non sembro spettacolare? Dici? Non hai senso artistico Boruto Dai Chi se ne importa il nostro aspetto Cominciamo Abbiamo già accettato una missione Possiamo cominciare da quella se vuoi Boruto Facciamo una prova Va bene va bene Però voglio vedere quando inizierà poi la vera guerra Di cui si era parlato all'inizio E anche questa volta possiamo scegliere un personaggio che vogliamo noi Ma ragazzi se prima abbiamo scelto Naruto Direi a questo punto di andare a scegliere direttamente il nuovo Sasuke Che dovrebbe essere spaziale Lo proveremo ora Eccoci qua Via Allora abbiamo Zabusa Occhio Allora Andiamo subito ad attaccare Vediamo le sue combo Pazzesche come al solito Bellissime Veramente bellissime ragazzi Allora Io mi avvicino Occhio Io ho fatto già la Suprema Maronna mi Io ho fatto la Suprema Sì Kirin Maronna mi Ma che spettacolo è Ma Tra l'altro Vi ricordo che posso anche cambiare personaggio Credo Me lo fa fare No non me lo fa fare Mi sa Eh no Perché tipo io controllo quello E quindi quello mi devo tenere Peccato Eh scusa Gli altri due personaggi Me li facevi controllare Eravamo tutti più contenti Arte della fiamma Barriera di fiamme Oh Si sta risvegliando Lo sapevo Eh Qua sto rischiando grosso Ragazzi Potere della mano Celestiale Mbazzuto Oh Possibilità di concludere Con tecnica finale Assolutamente sì Ci siamo Vado adesso L'ho preso No Mi provo a avvicinare di nuovo Dai Sei mio Mannaggia Ogni volta Non ci riesco No Tecnica finale Aspetta ragazzi Faccio la tecnica legame Sono miei Vai Ci siamo Ci siamo Quindi Quindi l'ho fatta Con gli altri due Cioè con i miei compagni Di squadra Vale comunque Come tecnica finale No E infatti Nessuno conquisterà Il mondo dei ninja Mi ha sbloccato Pure telepatia Il trofeo Ragazzi Bellissime Queste tecniche Io l'ho sempre pensato Che proprio le supreme Di Naruto Sia dei precedenti Ma pure di questo Sono spaziali E risultati Battaglia Top Ok E ci ritroviamo qua Girovagare nel mondo Di gioco è piuttosto divertente Però Cioè lui dice questa cosa Ma noi non ci possiamo Girovagare nel mondo Cioè in realtà È tutto molto guidato Veramente molto Sono pure curioso Di sapere questa storia Quanto dura Vediamo un po' Dai Perché è una storia Totalmente nuova Originale Ma non ci sono ancora Informazioni in merito Forse le non c'erano più tardi Ma di che parlano? Di un evento? Ah Il gioco per la collana Che era l'obiettivo Per il quale Boruto Ha iniziato a giocare Voleva ottenere La collana Da regalare A sua sorella Sì ci sono più giocatori Vediamo un po' Ah e c'è sempre lei Con cui abbiamo parlato In precedenza Eccola qua Di nuovo tu Ho sentito che non ci sono Ancora informazioni Su una campagna Della collana Voglio quella collana Cosa devo fare quindi? Non so Sono solo una guida eventi Non mi occupo Delle campagne Quindi devo aspettare Finché non aggiornano Le informazioni? In pratica Quindi abbiamo finito qui? Mamma mia Questa ragazzi È un bot palese Veramente Puoi tormentarmi Quanto vuoi Sulla campagna Ma non ne so Comunque nulla Cioè più che bot È un NPC Vero e proprio Un NPC Che nel gioco Fa l'NPC Cioè assurdo Hai visto cosa Appena fatto? Cosa? Vabbè Ho imparato a scrivere Anch'io Vabbè Lui adesso Si sta atteggiando un po' Si sta innamorando di lei Ho capito bene? Andiamo Stavo spaccando Là fuori Perché è così amichevole Con il personaggio guida? Cioè infatti È un NPC Ma che fa? In realtà Le sue reazioni Non sono diverse Rispetto a quando Le parliamo noi Ma non è controllata Da un computer Ah quindi c'è la possibilità Quindi cambia comportamento In base a Con chi parla Io ho l'impressione In realtà Che sia impersonata Da un personaggio E si sta iniziando Un po' alla volta A legare a Boruto O lo farà in seguito Vedremo Vediamo Sono curioso Sono imbattuti In qualcuno che conosco Qualcuno che conosci? Vediamo Dovremo tornare presto Di già Ho una missione notturna Del mondo reale Dobbiamo andare a prepararci Anche se è una rottura Beh allora Non ha senso Immagino Buona fortuna A più tardi E quindi svaniscono Perché forse Si sono tolte il visore E eccolo qua Visore tolto Giocare con le persone Che conosci è divertente Vabbè Frase proprio Da bot Veramente Boruto Scusa eh Stai entrando Nel mood Dell'NPC Anche tu? Eh Vediamo Però ogni volta Esce sempre stordito Dal gioco Secondo me Non gli fa benissimo O forse è una di quelle persone Che non è abituata Ad utilizzare i visori Inizia una nuova Incredibile Fantastica giornata Direttamente Con Boruto E quindi la storia continua Vai lontano oggi Per la tua missione? Si Riesco ad andare E tornare in giornata Però Fa attenzione A più tardi Ok Quindi loro due restano a casa Ma che è sto stereotipo? Ma scusa Ok Si ritrovano all'ingresso del villaggio Va bene Bene siete qui La squadra 7 Si dirigerà nella regione A nord ovest Del paese del fuoco Per una missione investigativa È una piccola zona Di un'ampia foresta Perché ci andiamo? Stando ai rapporti C'è un'anomalia In una zona della foresta Anomalia? Rapporto menzionava Uno smottamento Che dovrebbe essere Tipo una sorta di terremoto Un crollo Mo' capiamo un attimo ragazzi Probabilmente non si rischia una battaglia Ma state allerta Probabile che da lì Degenerà tutto Me l'aspetto eh Vediamo Parte proprio un filmato Molto bene Oh mamma mia Che è stato qua? Questa è stata una battaglia valese Scusami Sono degli squarci nel terreno È ovvio Eh per forza Guarda qua Il posto è questo? Parte pure la canzoncina misteriosa Ma è peggio di quanto immaginassi Maestro Konohamaru Dove vuoi che andiamo? C'è un villaggio qua vicino Sarada e io andremo lì A raccogliere informazioni Boruto e Mitsuki Per illustrare quest'area Vedete se riuscite a trovare Qualche possibile causa Di tutto questo Va bene Eh in realtà Temo che da un momento all'altro Possa arrivare qualche nemico Qua è qua Aspettiamocelo perché Non so Non so Mi sembra un po' strano Cioè qua è palese Lo scenario di una battaglia Non è un semplice smottamento Così Come vanno le cose lì? Oh state a distanza di pochi metri Cioè lì Ne è tanto lontane Vediamo un po' Ancora niente? Eh ma dipende Cosa stanno cercando Le ho provate tutte Tutto ciò che siamo riusciti a capire È che qualcuno è responsabile Ed è chiaro che solo parte della foresta È stata distrutta Non avrebbe quest'aspetto Se non fosse stato un disastro naturale Chi farebbe questo? Scusate il ritardo Ecco qua è arrivata lei Buonasera Ciao Com'è andata? Abbiamo chiesto in giro L'incidente è avvenuto tre giorni fa Di notte Si è udito un potente schianto Proveniente dal cuore della foresta E le scosse hanno raggiunto il villaggio Quando sono venuti qui Il giorno dopo hanno visto questo In altre parole Nemmeno i residenti ne conoscono le cause In realtà abbiamo sentito qualcosa Di piuttosto interessante Alcuni residenti hanno detto Di aver visto un gigante luminoso Attraverso le cime degli alberi Un gigante luminoso? Sì a sentirlo mi viene da pensare a Sasuke Per qualche ragione Sì Susano Ma non penso che papà faccia una cosa simile Senza ragione Eh ma forse ha combattuto con qualcuno Scusami Eh mica ci vuole tanto a capirlo Eh i ragazzi qua non sono scienziati Scusa Le nostre indagini hanno stabilito Che la distruzione è stata causata da un umano Sì ma non ci voleva un'indagine Si capiva a colpo d'occhio Ora dobbiamo solo capire Che è stato e perché l'ha fatto Mmm Ok Torniamo al villaggio e facciamo rapporto Meglio lasciare il tutto agli esperti Piuttosto che indagare ancora di persona Mmm E io che pensavo combattessero proprio loro con qualcuno Vediamo Che è successo? Ok Si ritorna al villaggio della foglia Bene Qualcuno l'ha distrutto Ci servono più dettagli su questo incidente Sì Mandare una squadra di ispezione Sembra che questo incidente Deba essere approfondito accuratamente Papà Hai idea di cosa fosse quel gigante luminoso? Ha a che fare con Sasuke? Hai sentito che Sasuke fosse lì? Niente nei rapporti Quindi non possiamo essere certi di nulla al momento Mmm Indagheremo E se dovessimo trovare qualcosa vi faremo sapere Bel lavoro oggi Prendetevi il resto della giornata libero Bah Non è che hanno fatto chissà che cosa Però Sono andati comunque a controllare Bene Mmm Naruto molto provato e stanco eh Cosa potrebbe essere? Mmm Ma che è quella? Una telecamera? Che era? Una telecamera? Ma sì Ma l'avevo detto subito A quanto pare ha catturato la tua attenzione Era solo un test Indagare è inutile Quindi era qualcuno che ha fatto un test Per attrarre la sua attenzione E quindi il capitolo 1 ragazzi Si conclude ufficialmente Il prossimo episodio lo trovate direttamente ora a schermo Vi basta cliccare per andare a vederlo